Aeroporto di Praga, Terminal 2, c'è l'aria salottino, chi che ha un aereo di notte anziché tenere l'hotel tutto il giorno può stare a questo salottino dove vedete che la gente ci dorme tranquillamente e nella parte interna una volta fatto il check in si risparmiano i soldi dell'hotel e i soldi del taxi vabbè per questa volta ci è costato poco però un'ottima alternativa per chi non può dormire la notte avendo il volo con check in alle 4 alle 3